Oh no, come faccio? È uscito il dendro e Kazuha non può più fare niente, è diventato un personaggio inutile perché il dendro con l'animo non funziona, io voglio usare il dendro in ogni team perché adesso è il dendro, la regione di Sumeru è il dendro e quindi, raga, funziona, funziona esattamente come prima. Utilizzate gli elementi esattamente come prima. Ora vi faccio vedere. Metto Beidou al livello 80 al posto di una Fischl spaventosa rispetto a lei, giusto per farvi vedere la differenza, poi immaginate voi i danni. Iniziamo! Allora, abbiamo i door bottoni che arrivano come sempre, li facciamo arrivare un po' più vicini per essere più tranquilli, Elemental Skill, Elemental Burst, abbiamo la Burst di Beidou, abbiamo questo, facciamo più un colpetto di energia, non si sa mai, e intanto iniziamo a picchiarli. Allora, possiamo buttarci su uno o colpirli entrambi, tanto poi la Burst di Kazuha fa proccare tutto quanto, come vedete gli Hyper Bloom proccano grazie alle reazioni con Beidou e tutto quanto funziona. Questo è come funziona con loro. È vero, io ce l'ho C6, ragazzi, Kazuha, ma in questo caso ce la fate tranquillamente, aggiungete qualche secondo, la stessa cosa. Immaginate una Fischl al posto di Beidou, o una Beidou molto migliore della mia, perché non ce l'ho così performante, e siete a posto. Questi sono i danni che fa, è tanta roba, ok? È tanta roba. Quindi, non preoccupatevi del fatto che lui non possa più performare perché il Dendro con l'Anemo non hanno una reazione pensata e ragionata da Oioverse, quanto più in realtà come faccia a funzionare tutti gli elementi attorno. Perché Kazuha, come sapete, infonde più di un elemento insieme, di conseguenza va a potenziare tutta una serie di elementi, tutto quanto che sono il vostro potenziale del danno. Se aggiungete l'Aggravate con la sua Elemental Burst Infusion e una cosa o un'altra, avete veramente di che divertirvi, anche con un Kazuha, continuando a raggruppare nemici raggruppabili, continuando a fare tutta una sequenza di skill, burst, skill, da C1 in avanti, con la possibilità C2 di avere anche 200 di Elemental Master che va a potenziare Dendro e tutto quanto, tutte le reazioni che ci sono in questo momento, praticamente. Quindi, tanta tanta roba. Continua a essere il personaggio che è sempre stato e funziona anche col Dendro. Sicuramente ci saranno dei team dove magari lui lo si può escludere perché c'è un pensiero attorno al team che si differenzia dall'idea dell'animo, ma potete farlo. Potete farlo anche con Sacros, potete farlo anche con 20, magari in una situazione come quella che abbiamo visto adesso, i due erbottoni 20 diventa un po' meno importante perché il suo raggruppare serve sia no a un cazzo, però comunque arriva meno danno personale rispetto a caso, però ce la potete fare. Con Sacros comunque avete, con 20 comunque avete una Bars che continua a picchiare, infondere, eccetera, eccetera, quindi il senso è bene o male lo stesso. Non sarà forte come Casua, non saranno forti come loro, ma funzionano, funzionano. Quindi non preoccupatevi di questa cosa. Se poi volete delle varianti così per divertirvi, avete abbastanza magari danno su determinati personaggi, eccetera, potete anche fare delle cose di questo tipo. C'è molto classiche, molto vecchie, diciamo, però con il Dendro al posto del Craio, al posto di altre cose, se avete bene C6, chiaramente, per far funzionare delle rotation in un modo un po' più Bars Damage, vi faccio vedere cosa intendo. Come funziona qui? Un pochino diversamente rispetto a prima. Chiaramente qua si utilizza il Bars Damage, quindi dovete farli avvicinare il più possibile per riuscire a fare tutto il danno a tutti i nemici. Fate sempre Elemental Bars, Elemental Skill. Qua potete utilizzare anche il Traveler, qua potete utilizzare Mona, dovete utilizzare Mona in questo momento per cominciare a caricare i Bloom. E poi, una volta che siete vicini, dovete fare questa situazione così. Lui fa esplodere e continua a far esplodere questo. Dopodiché, se avete un applicatore Hydro, migliore anche di Mona, tutto a posto, perché continuate a fare i Bloom e lo Swirl della Bars di Casua continua a farli esplodere, quindi non avete più problemi. Altrimenti fate semplicemente il giro delle skill, vi ricaricate le vostre Bars e siete già praticamente pronti per quello che arriva dopo, che è lui. Ok, quindi se avete messo veramente poco tempo, comunque, anche con un team, ripeto, pensato per un Bars team e ve la giocate così. Il mio caso è EC6, ve lo ricordo, quindi sicuramente avrete visto dei danni magari un po' più alpi dal Plunge e quello che arrivava, ma la forza di questa cosa è chiaramente sempre la reazione e la combo Mona-Bennett più il Burgeon da far esplodere in questo modo, grazie a Casua che monta Elemental Mastery già di suo. Anche se in questo caso il mio è un po' più ibrido, quindi c'era 700 o qualcosa di Elemental Mastery da solo. Quindi non pensate che non si possa utilizzare l'anemo, soprattutto di un tipo come Casua che svirla più elementi, che dà potenziamenti eccetera, è molto performante. E il Viridescent Vener è ancora molto forte, soprattutto in team dove devono collaborare più elementi. In questo caso avete Hydro ed Elettro che devono collaborare con il Dendro, e lui va a potenziare entrambi abbassando le difese di entrambi gli elementi ai nemici. E' molto forte questa cosa, quindi non pensate che non si possano utilizzare degli animo all'interno del team con Dendro, perché Dendro e animo non collaborano direttamente. Questo è un errore che si potrebbe commettere, specialmente magari se siete nuovi giocatori, quindi questo video è chiaramente rivolto più ai nuovi giocatori che non agli esperti di Genshin che già sanno queste cose, però ci tenevo a farlo perché secondo me è molto importante, perché sui social, specialmente TikTok e cose varie, sto leggendo e sto vedendo dei commenti, sto vedendo dei video, dove l'animo viene quasi buttato via perché di colpo sembra che il Dendro sia il nuovo elemento verde per eccellenza e quindi non c'è più nient'altro. No, in realtà... no, no. L'animo è un elemento di buff e debuff, ma è anche un elemento di controllo. In questo momento il Dendro è soltanto un elemento di buff e che funziona in modo diverso con le reazioni. Sono due cose che possono tranquillamente coesistere, sebbene siano entrambe verdi, quindi non vi preoccupate e viva i Namecciani e va bene così. Signori, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, mi raccomando. Buona continuazione, buon farm e divertitevi. Io provo a fare adesso la stanza che mi ero preparato con Shen He da sola contro tutti i nemici. Non credo che ce la farò. Arrivederci, ciao. Buonasera. Morta, 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 morta. Vi faccio vedere la variante con venti di cui parlavo. Non vi aspettate lo stesso tipo di performance perché non saranno uguali a caso, chiaramente per un vestimento diverso sul personaggio, ma è per far vedere che comunque può funzionare molto bene come situazione. Voi utilizzate semplicemente il vostro personaggio. Volendo potete andare dentro a loro con Fischl, che va bene. Utilizzate l'Elemental Skill, l'Elemental Burst. Quando è infusa, che siete a posto, ci buttate dentro tutto quello che volete e poi cominciate a picchiare con il vostro personaggio di punta. In questo caso una Fischl. Come vedete dopo pochissimi attacchi, lei c'è già ed è già pronta per picchiare. Potete ributtarvi con quello. Potete rifare la base con venti perché ce l'avete praticamente sempre. Grazie a venti di energia e, insomma, non dico che c'è perenne, ma c'è. E quindi ce la potete fare. I vostri combattimenti sono tranquilli. Qua avete il mostro. È vero che ci mettete un po' di più rispetto a prima. Qua sono stato anche magari un po' sfortunato perché si sono staccati un attimo. Vabbè, lì dipende anche da come va la rampa. Però davvero ce la potete fare davvero senza problemi. L'Aggravate va a devastare. Guardate, c'è Hit 21.000 con Odds. Secondo me è abbastanza buono come risultato. Ovvio, non è Kazuo, ma Kazuo è C6. Cioè dovete pensare anche l'acido di Kazuo. A venti non ha cose del genere. A venti non dà tutta quell'elemente al match. Cioè è un altro personaggio. Non è a livello di Kazuo. Lo sapete benissimo. Però funziona. Quindi l'animo funziona e integra comunque molto bene gli elementi. Qua dovete solo riuscire a sviluppare quello giusto. Che in realtà poi dipende anche perché l'hydro vi permette di generare più bloom. Quando magari non riuscite ad entrare con le spadine di Sinchou durante gli switch. Mentre l'elettro vi permette di sviluppare per l'aggravite. Quindi dipende. A seconda della situazione possono funzionare bene entrambe le cose. Quindi va bene. Comunque c'è l'elettro charge in mezzo. Ci sono diverse reazioni che vanno ad integrarsi nella meccanica. E questo secondo me funziona molto bene. Quindi avete una possibilità di utilizzare l'animo anche con il dendro. Se accompagnato dai team magari giusti. E ci sono tantissime varianti. Come avete potuto vedere. Siamo solo all'inizio praticamente. I team sono veramente tanti. Ve le sto portando alcuni sul canale. Spero che vi piaccia l'idea. E basta. Spero che viaccia l'idea. 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 Grazie a tutti.